Bella a tutti ragazzi con Orgasmic e sono qui con un nuovo Squad Builder Nello scorso appunto Squad Builder mi è stato chiesto nei commenti da più persone di portarvi una squadra con MNIKIF e Oba Oba Martins IF Purtroppo non sono riuscito a trovare MNIKIF perché penso che non ce ne siano proprio sul mercato e quindi vabbè ho usato quello NIF però cambia veramente poco perché il bug è a livelli estremi è una squadra appunto come immaginerete molto OP che però diciamo di OP ha soltanto i due attaccanti non ho voluto influire molto diciamo sul livello di OP anche negli altri giocatori che comunque sono davvero ottimi quindi direi di partire subito vi invito sempre a lasciare un bel like e soprattutto a scrivermi quali squadre volete successivamente perché ovviamente dopo un milione di squadre che ho fatto l'origine Italia Fantasia poi dopo un po' viene meno Comunque partiamo dal portiere che è uno dei miei preferiti del gioco cioè Howard perché penso che sia veramente fortissimo ha delle statistiche molto alte, tutte le sue statistiche sono alte quindi lo reputo veramente forte fa tantissime belle parate quindi io lo consiglio sempre perché è un ottimissimo portiere poi terzino destro è argento è una squadra BSG però c'ha solo un giocatore bronzo il terzino destro è un non raro che ovviamente non ricordo più chi sia ah sì l'Innes l'Innes età ultra l'assorbente in pratica che è questo tizio non male con delle buone statistiche soprattutto l'ho messo per l'intesa comunque ha una buona velocità, prezzo un po' alto forse un po' troppo però comunque sia l'unico penso giocatore discreto che potete mettere come terzino destro per legare con l'intesa poi difensore centrale di destra ha utilizzato il mitico utilizzato veramente tanto quest'anno come anche il suo compagno di reparto cioè Opara penso che sia uno dei migliori difensori del gioco anche se non ha un valore molto alto di difesa però compensa tutto la sua velocità e la sua fisicità e il suo work rate e la sua altezza quindi non c'è nient'altro da dire che questo è un grandissimo giocatore come del resto lo è anche il suo compagno di reparto che ovviamente saprete già chi è cioè Win ma potete usare anche Jean-Baptiste che non è niente male anche lui questo giocatore non bisogna neanche presentarlo perché è fortissimo in qualsiasi statistica quindi lascio anche perdere perché tanto lo conoscete voi adesso non so quanto si aggira il prezzo a dire la verità poi terzino sinistro ho utilizzato questo giocatore che quest'anno non avevo ancora provato ma che vi consiglio veramente fortemente cioè Erkin questo turco del Fenerbace che ha delle statistiche molto molto bilanciate ma soprattutto mi ha stupito il suo tiro perché è un tiro veramente delizioso mi ha fatto anche un gol ha un long shot veramente da paura da 40 metri mi ha preso anche un palo, una traversa e ciò mi ha dispiaciuto molto tre stelle abilità quindi fate anche le roulette e tutto quello che volete fare veramente un ottimo terzino che consiglio niente un gol poi centrocampista difensivo ho utilizzato Jones veramente un buon giocatore peccato che alto alto se avesse per dire medio alto sarebbe sicuramente un miglior cdc ma comunque lo è un ottimissimo giocatore che ha comunque delle buone statistiche di tiro e di passaggio cose che non si trovano così facilmente in un cdc quindi io mi sento di consigliarvelo alla grande poi terzino eh sì terzino esterno destro argento anche lui ho utilizzato il gatto veramente un esterno molto interessante con 4 stelle abilità me ne sono accorto in game che aveva 4 stelle abilità in realtà non ci avevo fatto molto caso soprattutto lui è velocissimo molto agile ottimo dribbling buona fisicità questa la cosa che non mi piace di questo giocatore oltre al suo passaggio non il migliore però comunque mi ha fatto 4 assist è il suo work rate normale alto che può un po' ingannare però in realtà attacca diciamo discretamente quindi secondo me è contare relativamente poco il suo work rate perché il suo lavoro offensivo lo fa è anche quello difensivo ovviamente poi esterno di sinistra oro utilizzato Saw che l'avevate visto in qualche altro squad builder in uno in particolare se non sbaglio quello con il Silver Ibrahimovic se non vi ricordate andate sul mio canale a guardarlo davvero un buon giocatore che peccato che non abbia una velocità tipo sui 90 altrimenti sarebbe una bestia incredibile perché ha un tiro veramente spaziale e peccato anche che non abbia le 4 stelle abilità che secondo me l'avrebbero reso un mostro clamoroso comunque i suoi gol e i suoi assist per essere poi un esterno li fa tranquillamente poi andiamo con il CoC che in realtà non gli ho cambiato neanche ruolo sarebbe a T però non cambia l'intesa o comunque rimane sempre decente è Dempsey Clint Dempsey davvero un ottimo giocatore che ha questa pecca di avere 73 di velocità che se avesse tipo sui 78-80 sarebbe un giocatore incredibile perché ha dribbling ha 4 stelle abilità 4 stelle piede debole un ottimo passaggio da cui derivano 3 assist un ottimissimo tiro un gran tiro da cui derivano 2 gol ma potevano essere di più perché mi ha preso 2 traverse su long shot gran dribbling ottima fisicità appunto peccato per questa velocità non altissima ma che comunque resta comunque un grandissimo giocatore che vi consiglio di provare assolutamente perché serve tanti assist e fa tanti gol mentre l'attacco come vi avevo anticipato è formato da Martins sulla destra comunque potete utilizzarlo anche sulla sinistra tranquillamente dovete un po' cambiare l'intesa che mi ha fatto tanti gol più gol che partite anche se non sono tutte mie queste partite giocate non so perché me le segna come mie e comunque fa anche dei buoni assist è un giocatore rapidissimo praticamente infermabile peccato che ha normale normale di work rate che se avesse alto di attacco sarebbe veramente inarrestabile e infine come avevate comunque immaginato come attaccante di sinistra ovviamente qui non lo trovo e me nicche sul punto attaccante sinistro peccato che non l'ho trovato if se no avrebbe veramente spaccato tutto ma comunque 9 gol 9 partite e 4 assist direi che è una media veramente impressionante considerando che gioca in attacco a 2 quindi segnano anche gli altri comunque raga questa è la squadra spero vi sia piaciuta volevo fare una squadra un po' più OP visto che è un po' che non porto squadre un po' baggate fatemi sapere se vi piace lasciate un bel mi piace 300 mi piace nuovo video ma soprattutto scrivetemi per favore nei commenti che squadra vorreste vedere in futuro a me piacerebbe portarvi una squadra con promise con l'argentone if veramente spettacolare ma purtroppo non lo trovo sul mercato penso che non ce ne siano proprio quindi sarà quasi impossibile portarvelo comunque fatemi sapere nei commenti cosa volete iscrivetevi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video adesso vi lascio il clip bella ranga ciao ciao ciao